ciao sono andrea maderna e questo è uno dei nostri unboxing di retroutcast e sto facendo il cretino perché perché oggi vi mostro ovviamente come al solito una confezione legata al nuovo episodio di retroutcast che nel caso specifico è dedicato al primo alone in the dark gioco del 1993 e insomma se volete sapere tutto del gioco e cosa ne pensiamo anche rigiocandoci oggi potete ascoltare il podcast che esce contemporaneamente a questo video ma nel video vi mostro la mia versione di alone in the dark e c'è un motivo se ho questa luce puntata in faccia oltre che sono un po un idiota ed è aspetta che metto la luce qua e la spengo che questa confezione non si nota molto purtroppo perché la telecamera sono dei limiti però si illumina al buio è fluorescente se illuminata da una luce si illuminano la scritta la luce della lampada e la scritta da trilogy e le scritte sui lati insomma tutte queste cose qua chiaramente c'è un limite a quanto si veda ma insomma adesso accendo anche a luce grande per poterla mostrare un po meglio mi sembra il caso ci ho provato ragazzi ci ho provato allora questa qua è la raccolta è l'equivalente sostanzialmente di quello che si trova su gog per esempio se andate a comprare oggi alone in the dark la trilogia che contiene tre giochi più jack in the dark che era quella roba promozionale che avevano fatto prima di alone in the dark 2 anche se bizzarramente ne parliamo poi nel podcast l'hanno inclusa nel cd dell'uno e nel download dell'uno quindi la trilogia completa originale non ci sono dentro i successivi the new nightmare la non in the dark del 2008 illumination men che meno ovviamente cosa deve ancora uscire the trilogy 1 2 e 3 una raccolta su cd rom del 95 quindi c'è proprio subita bella fresca che io ricordo io se non sbaglio avevo giocato l'uno pirata il 2 pirata passati dall'amico il 3 l'avevo comprato originale e poi avevo comprato questa raccolta perché mi piaceva perché volevo averli tutti e tre originali e magari anche rigiocarci e ci ho rigiocato in questa versione cd che ripeto e dovrebbe essere quella che si trova oggi comprabile online in digitale il cofanetto è molto carino devo dire appunto a questa cosa che si illumina il buio la lanterna la scritta fa fa la sua scena dietro ovviamente ci sono gli screenshot dei tre giochi poi in realtà dentro è piuttosto povero cioè nel momento in cui lo apri cosa c'è dentro ci sono semplicemente a parte la cartolina per la per la garanzia ci sono i tre giochi sono le confezioni classiche cd di plastica trasparente con il dark 123 con gli artwork originali con i vari screenshot dietro sostanzialmente sono delle riproduzioni in piccolo delle delle confezioni originali tra l'altro quella dell'uno non è anche non ha neanche le immagini di gioco con i cd con le loro belle serigrafie però non c'è veramente granché altro da mostrare è più che altro la confezione che era una cosa carina e volevo farvela vedere e e poi vabbè appunto il classico manuale con tutte le istruzioni del caso per farlo funzionare su pc per impazzire a impostare la memoria e altre scicchere del genere e ripeto nella versione cd e incluso anche jack in the dark ripeto nella versione cd di alone in the dark 1 nonostante sia in realtà un mini gioco promozionale di alone in the dark 2 abbastanza buffa questa cosa anche se in un certo senso secondo me funziona nel momento in cui il primo alone in the dark è il gioco più avventuroso e jack in the dark è forse la cosa più avventurosa che sia mai stata fatta in the dark perché non puoi affrontare i combattimenti essendo tu una bambina ma di nuovo ripeto ne parliamo nel podcast questo è alone in the dark the trilogy 1 più 2 più 3 io rispengo la luce per fare ancora un'ultima volta il pirla e niente vi ribadisco andate andate a gustarvi a alone in the dark il retro outcast dedicato e ci vediamo al prossimo unboxing ciao ciao